Ciao a tutti ragazzi e bentornati su World of Warcraft, siamo ancora nella pre-espansione di Legion e siamo alla seconda parte anche per vedere un po' che cosa accadrà adesso nella storia. Ovviamente vi ricordo che ci possono essere degli spoiler e soprattutto se non avete visto la prima parte magari andatela a guardare perché altrimenti rischierei di non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo in questo momento. Comunque, partiamo subito, andiamo a vedere un po', dobbiamo parlare con Allari, la mangiatrice d'anime. Vediamo un po', sono Illidari questi quindi amichetti di Illidan o comunque servitori, vediamo. Non credevi forse che il comando del Lorda potesse radunarsi in un luogo senza attirare l'attenzione della legione infuocata, vero? Bene. I demoni sono tra noi, guardati intorno, cosa vedi? Allari fisso, qualcosa sopra la tua spalla. La legione si è infiltrata nell'orda, è già tra voi. Dobbiamo proteggere il tuo capoguerra. Quando sarai pronto a scoprire ciò che si nasconde ai tuoi occhi, parla con me. Scopri ciò che Allari, la mangiatrice d'anime può vedere. Ah, ok. Quindi. Ah, grazie. Ti basterà chiedere, io rivelerò la minaccia nascosta. Ok, mostrami le prove. Cosa mi vuoi dire? Poi nasconde la tua vera natura, demone. C'è scoperto troppo tardi i lidari. Vilspada, attaccate! Ce ne sono altri tra noi. Oh, infernali che cascano dal cielo. Oh, quanti caspi ce n'è? Yoho! Chi è sto macello? Manco il tempo. Wow, demone è uccisi. Allora, questa a quanto pare... Andiamo un po'. Ah. Frammento d'olio. Ok, non ho notato il nome degli infernali. Allora, attiviamo le barre. Ci senti, c'è un macello. Ma quanti ne sono morti? Per la miseria. Ciao. Non sarò sconfitto. Muore subito dopo. Che strano. Sembra quasi una cosa di Dragon Ball. Ok, vediamo un po'. Silvanas è sotto attacco, però ovviamente... Non ci dovrebbero essere problemi. Soprattutto ci sono altri player che stanno facendo... Questa stessa quest in questo momento. Quindi potrebbe essere... Poco poco più complicato. Beccare tutti questi target. Ok. Proseguiamo, proseguiamo. Ma fai come... Caspita, certo che è un infernale che si traveste. No, orco o qualcosa del genere ce ne vuole. Non c'è che dire, la legione ha un po' di fantasia. Allora. C'è un coso di questo che diventa tipo... Minuscolo. Perché in effetti sì, gli orchi sono belli grossi, certo. Per carità. Però, caspita. Come caspita fai a nascondere cose di questo... In un corpo orchesco. Però. Vabbè. Non facciamo domande. Eh... Logica. Poi magie, cose. Sa che caspita di magia hanno a disposizione sti... Sti schifosi. Prima o poi lo beccherò a Gul'dan. Comunque ragazzi, cosa ne pensate finora... Di questa tritette presentazione di Legion. Anche perché, accidenti... Non si può dire che non abbiano stupito tutti... Con quello che è successo alle... Isole Vede Perdute. Beh. Sicuramente io sono rimasto piuttosto sconvolto. Allora. Sembra che le preoccupazioni dei cacciatori di demoni fossero fondate. Come hanno stato i demoni infiltrassi nella città durante un periodo di lutto. Questo non è di buon aspicio per il resto del mio regno. Assolutamente no, caspita. Quindi, tieniti stretti gli amici. La legione ha del fegato a colpire la roccaforte dell'orda. Ci hai aiutato nella difesa, ma ho un compito più importante per te. Sembra che i cacciatori di demoni possano rivelarsi decisivi in questa guerra. Ma continuo a non fidarmi di loro. E c'è credo. Sarai il mio viato presso gli Illidari. Scopri ciò che sanno. Studia le loro tecniche. Se ci tradiscono, useremo la loro conoscenza contro di loro. Il loro accampamento si trova sull'alto piano che sovrasta la città. Va! Natos, e io ripuliremo questo disastro. Ok. Elfin, darai... Ne uccissi molti più di te, Natanos. Stai perdendo colpi. Sono il tuo campione, Damascura. È il mio dovere farti fare bella figura. Eh, direi... Campione nell'inventare scuse, sembrerebbe. Silvanas. Mi piace molto come personaggio da ammettere. È sempre stato un tipo piuttosto carismatico. Anche da Warcraft 3 quando era viva. E poi quando è uscito il Frozen Throne, sicuramente, è rimasto sempre un personaggio ricco di sorprese, sicuramente. E allora, a quanto pare adesso abbiamo un accampamento degli Illidari. Qua all'alto piano ancora, ovviamente, dove si doveva un po' caricare. Abbiamo due quest a disposizione. Però non riesco ancora a vedere... Eh, il... Eh, dove devo consegnare? Eh, non è qui, vero? Ciao. Tu che fai? Che cos'hai? È un venditore? Ah, sì, ok. Vente le ricompense delle invasioni che poi più avanti faremo. Allora, ciao. Ah, tu sei il famoso sciamano di cui ho sentito parlare. Bene. Vedremo se sei all'altezza della tua reputazione. Ah, ci puoi scommettere. Fermare l'invasione. La legione non ha semplicemente invaso questa città. Ma che? Non sei proprio potenziato di Khadgar? Hmm, penso che ne parleremo dopo. Comunque. La loro malvagità si sta spandendo su tutta Azeroth, minacciando ogni angolo del nostro mondo. Dobbiamo trovarli e fermarli ovunque la loro oscurità faccia presa. Abbiamo inviato esploratori per tutto il mondo alla ricerca di attività della legione. Quando un'invasione avrà luogo, segnaleremo dove sulla tua mappa. Falli soffrire, Xevion. Apri la mappa per trovare un punto di invasione della legione, Tivo, Kalimdor o nei regni orientali. Raggiungi il punto di invasione e ferma i demoni. Ah, benissimo. Per niente, ne ho fatti un bel po'. A quanto pare c'era con me. Cosa hai da dirmi? Chiamata del concilio. La nominia arcana si rivolge a te utilizzando la voce di Khadgar. Per quanto mi dispiace interrompere la tua lotta contro la legione, devo richiedere il tuo aiuto per una questione diplomatica. Affrontiamo una grave minaccia. Avemo bisogno della tua forza di tutti i popoli di Azeroth per superarla. Lorda deve tornare a essere parte del Kirin Tor, ma qualcuno non è d'accordo. Per favore, raggiungimi fuori dalla cittadella violace a Dalaran. Abbiamo riposizionato la città per difendere i regni orientali. La troverai al valico vento morto sopra Karadhan. Ok, intanto prendo la quest, però... Mi è giunta voce dei tuoi sforzi contro le forze d'invasione della legione infuocata. Mi dispiace interrompere un lavoro così importante, ma avrei bisogno di te per una questione diplomatica. Presto farò arrabbiare una vecchia conoscenza. Chi potrebbe arrabbiarsi? La troverai al valico vento morto. Ovviamente, ragazzi, per il momento andremo per ordine. Giusto, giusto. Uh, sette minuti alla fine di questa invasione, per la miseria. Devo cercare di arrivarci. Non so se poi si fermerà. Quindi speriamo. Quindi sarà una missione a fasi, questa. Che ho già l'85% della fase 1. Soprattutto, ragazzi, ne ho fatte un bel po' con il mio druido che sto livellando. Devo ammettere che il sistema della blizzard per questa invasione è veramente fenomenale. Perché praticamente sono tutte istanziate. E soprattutto si prende un sacco di exp. E soprattutto non perderete mai l'opportunità. Cioè, ad esempio, in questo momento mancavano sette minuti alla fine di questa invasione. Però, come potete vedere, sto partendo dalla fase 1. Quindi il fatto che sia istanziata significa che solitamente non perderete mai, diciamo, il divertimento. E, a quanto pare, c'è qualcosa che non va. Ah, giusto, purtroppo devo un attimo rimodificare i miei tasti. Adesso siamo nella fase 2. E, in pratica, a questa fase 2 dovremmo andare a caccia. Ah, no, ancora no. Accidenti, in un'altra volta lo dimentico sempre. Ci sono prima dei comandanti e dei luogotenenti. In pratica, abbiamo a che fare con un macello. Soprattutto spero, e dico spero, per favore, Blizzard, tieni queste invasioni così. Perché, veramente, sono fenomenali. Soprattutto vedere tutta questa gente che combatte insieme. Anche se, a volte, gli alleanze, essendo che siamo in un server PvP, purtroppo fanno un po' gli stronzi. Ah, aiuto. Help, ok, cerco di curarmi un attimo. Troppo il fatto che non ci sia un vero e proprio raid è difficile. Ah, ah, sono morto. Ecco, vabbè. Però, fortunatamente, gli spiriti guaritori qui funzionano come i Battleground. Certo, il fatto che, purtroppo, si perda un po' di integrità non è di certo una cosa proprio buonissima. Soprattutto il fatto che è un pochino difficile capire come tancare questi tizi. Comunque, vediamo un po' cosa sta succedendo lì. Stanno distruggendo il loro, come un altro dei loro luogotenenti. Soprattutto prenderemo delle shard, esattamente, schegge e fatue, che poi ci serviranno proprio per prendere quegli oggettini che abbiamo visto prima da quel venditore. Quindi, cerchiamo di uccidere il luogotenente e poi ci sposteremo insieme al gruppo. Adesso tocca al comandante. Vediamo un po' cosa spunterà. Aha, andiamo a scelto che siete grossi, eh. Ma cosa vi danno a mangiare lì? Ah, anime probabilmente. No, allora. Attacchiamo... È bellissimo, ragazzi, soprattutto vedere... O meglio, rivedere tutta questa gente. Cioè, per chi ha giocato soprattutto a vanilla, deve essere veramente un richiamo alle vecchie cose. Soprattutto ai vecchi raid da 40, tipo Molten Core, Blackwing Lair, queste cose così. Cioè, è davvero bellissimo rivedere tutto questo casino. E porca la miseria! Sono esploso di nuovo. Eh? Cos'era quella cosa? Non l'avevo vista. Purtroppo, a volte, arrivano dei danni improvvisi che... Onestamente non... Non è poi così tanto facile evitare, soprattutto con il macello che c'è. Certo, dovevi provare un attimo a concentrarmi di più, ma mi piace molto parlare, quindi... E poi, alla fine, si sa già che si prenderanno un sacco di botte. Ok, siamo arrivati quindi alla fase 3. Soprattutto, ecco lì, il loro Star Destroyer. Adesso vediamo un po' Tutti gli altri dove si stanno spostando in questo momento. Si stanno spostando, penso, verso il primo boss. Ecco qua. La cosa che mi stupisce è che praticamente ogni mob ha praticamente un nome diverso per quanto riguarda il boss. È interessante, è davvero un ottimo sistema. Allora, vediamo un po'. Prima di scendere, vorrei vedere se ci sono altri valorosi combattenti qui. Pronti a combattere qui, questo Ali sta prendendo botte. Anche perché i mob prendono vita a seconda di quante persone ci sono. Qui, a quanto pare, questi poveretti sono stati sottomessi un attimo al controllo demoniaco. E quindi dovremo un attimo liberarli per poi attaccare questo boss. Ovviamente non tutti i boss sono così, però... Vai. Ecco qua. Non ha attualmente cariche, quindi adesso possiamo distruggere questo demone. Andiamo all'attacco. È davvero bello, speriamo veramente. Ci spero tantissimo che possano tenere queste invasioni su. Soprattutto perché tutti possono partecipare anche al livello 10, per esempio, ho visto persone. Perché i mob rimangono a quel livello. Certo, è un pochino più complicata la situazione perché comunque più persone ci sono, come ho detto prima, e più vita avranno. Quindi, probabilmente i loro danni non saranno poi super, super, super importanti. Ma di certo, possono contribuire al combattimento. Il che è una cosa bellissima. E questo mi fa pensare molto a come sarà il livellaggio su... nelle Broken Island. Chissà. Eh, ci sono un bel po' di... Non saprei. Vilvisione. Devo distruggere queste cose. Ah. Oh. La parola dalle scatole questo tizio. Non mi attaccare, buffone. Non vedi che ti sto aiutando. Eh. Non ti sto attaccando. Tranquillo. Ok. Adesso, quando riuscirò ad uscire dal combat, purtroppo qui ci sono ancora alcune vilvisioni. Ecco fatto. Ora ci sposteremo verso i prossimi boss, anche perché sono quelli che danno più punti, a quanto pare. O comunque ci sono anche queste strutture. Vorrei farvi vedere un attimo che cosa succede, anche perché... Se, purtroppo, dovessero levare queste cose, potrebbe essere una delle poche volte... Una delle poche occasioni, comunque, in cui posso farvi vedere tutto. Tu scegli lì e io li uccido. Ok. Questo tizio qua. Accidenti, esplosa questa qua. Tutto il mio equipaggiamento è fatto apposta proprio contro demoni. Però di certo non voglio attaccare un bestione di questo. 5 milioni di vita? Non è di certo un bersaglio facile. Ora, cerchiamo di distruggere questi cristalli. Ci sono, tra parentesi, strutture diverse in giro. Ai 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 ai. Tutti i cristalli si difendono. Cerco di curarmi un attimo. Arrivendo un po' di HP. Accidenti, che cure critiche. Tutte critiche. Che... Che fortuna. Ok. Ora, voglio cercare di distruggere sto coso. A quanto pare sono per il momento solo, ma vabbè. E per farvi vedere cosa quest'ora sarei insieme al gruppo. E sicuramente, ragazzi, ve lo consiglio di... Di fare qualche PG. Mentre che ci sono queste invasioni Anche perché mancano mai 5 giorni all'uscita di Legion A meno 5 giorni per quando ho registrato questo video ragazzi Quindi se per caso lo metto tipo 2 giorni prima E per questo eh Lo so contare, so contare accidenti Ovviamente Ora tu levagli alle scatole Distruggiamo quest'altro cristallo magari Se me lo fa targettare grazie Ok e ora organizziamo un po' di stack Attacco della tempesta Assalto della tempesta l'hanno chiamato Si nomi in italiano Beh è più comodo per me Tenerli in italiano piuttosto che in inglese Perché ovviamente poi non devo tradurre e quant'altro Ce la faccio tranquillamente giusto però È un triplo lavoro Ok quindi adesso la struttura Crollerà boom esploderà Non ci ho visto più Ok dove sono finito Ok benissimo si è sciolta In questo momento a quanto pare ancora Gli attacchi stanno andando un pochino lentamente Ehm Troppo a quanto pare non c'è poi così tanta gente Forse più che altro perché L'invasione in teoria dovrebbe essere finita Sì appunto dovrebbero essere finite Quindi Non so com'è la situazione attualmente Questo infernale di certo da solo non lo posso attaccare Anche perché è un boss Mi pesterebbe di bot E a quanto pare mi sono ritrovato Forse un po' Da solo Non lo so Onestamente vediamo un po' Se dovesse essere il caso Che mi ritrovo solo Mi sa che Ricomincerò No a quanto pare è qui il gruppo Non hanno ancora cominciato l'altro boss Benissimo Quindi Per evitare ragazzi Anche di far durare davvero Troppo 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 Questa cosa Quest'episodio Anche perché giustamente L'invasione sta andando Abbastanza lentamente rispetto ai primi giorni Quindi Ci rivedremo Quando saremo mai a buon punto Quando cambierà la fase A tra poco Eccoci qua ragazzi Nuovamente Adesso siamo nella fase finale Adesso dovrebbe spawnare proprio qui Al cancello Sperando che ci siano abbastanza persone Per farlo fuori velocemente Ok eccolo qui Però Per il momento Voglio aspettare Si in effetti Ok quindi Non voglio attaccare subito Perché Se quella fase gira su qualcuno Lo fa esplodere Come minimo Cominciamo Esplosione d'ombra Devemo avvicinarci tutti No dovevamo allontanarci Esplosione d'ombra Accidenti Ho scambiato un attimo le abilità E l'altra quella Ora posso puggiargli qualcosa E glielo puggio Ah qualcuno l'ha fatto andare In evasione Ok ecco fatto Ora però Ce l'ha con me Mi pesterà di botte No Ok No 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 Oh il maestro Ma accidenti Fammi usare Ok Ok sono vivo Bene Ehm Non ho pente mano Per questo Esplosione d'ombra Via Stavolta non mi freghi Ok adesso ci riavviciniamo A quanto pare abbiamo un Demon Hunter Che sta tankando Bene Allora cerchiamo di fare un po' di danni Se l'avessi in gruppo Utilizzerei Bloodlust Onestamente Però Non lo posso usare Canne carbonizzata No grazie Lo purgio Perché non so precisamente cosa fa Anche perché non l'ho ancora letto Però Non mi piace Allora utilizziamo tutto questo Maestro Via 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 Ora mi sa che è esploso Oh esplosione no Ehm Ok Sto bene Sono ancora vivo Mi devo curare un po' però Oh occhio dell'oscurità Devo avvicinarmi Ok Tutto a posto Fortuna non è spuntato Il boss che comincia a spargere Le palle di fuoco in giro Perché se no sarebbe veramente un massacro Ehm Davvero devastante quel tizio Ora gli devo di nuovo questa cosa Al purge Continuiamo il combattimento Abbiamo ovviamente qui I soldati Del Lord E fortunatamente Quello cacciatore di Demoni sta facendo piuttosto bene Il tank Almeno per una volta Abbiamo un tank Vero e proprio Aaaaa Ok Stiamo bene Troppo ovviamente calerà un pochino lentamente Perché poi non siamo Così tanti Dopo durante l'invasione Molti se ne sono andati Anche perché c'erano molte più persone Prima Sì Non eravamo 3-4 Quelli che siamo qui Accidenti Dove sono andati a finire tutti Allora Utilizzerò I miei cagnolini Mi daranno una mano Vediamo I miei cagnolini Sarebbero lupi Però vabbè I cagnolini Stessa cosa Sono i miei cuccioli Oh no È morto il tank È morto il tank È morto il tank Anche io No Aaaaa Beh meglio morire Forse Almeno non lo faccio resettare Sì sarebbe meglio Non farlo resettare Almeno Non ricominciamo Ok Aspettiamo Cos'era Non mi importa questa cosa Non me ne accorgo mai Forse in realtà Mi potrebbero resettare Però Non aspetto Ok Quindi dobbiamo affrontare Questo boss Sfortunatamente Come dicevo Siamo un pochino pochi Quindi Ci vorrà un bel po' Solitamente qui Ci sarebbe l'inferno Di persone morte Purtroppo Non lo fate resettare Cosa sta facendo Chi c'era Forse non Ah il principe del commercio Ecco Ok Un'esplosione d'ombra No 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 Questa volta non esco No l'hai evitata E vai Si è allontanato Andiamo Occhio dell'oscurità Adesso dobbiamo Caricare un po' E poi Assalto della tempesta Assalto della tempesta Assalto della tempesta Ah c'è un'altra carica Però devo caricare un altro po' No Così Cariciamo un altro po' di maestro Poi via Ok Adesso utilizzo le altre abilità E poi Ci siamo Devo ammettere che ci sto prendendo Un pochino la mano Con lo shaman enhancement Come dicevamo In generale Ho come l'impressione Che in questo momento Lo shaman enhancement Se la capi piuttosto bene In PvE Piuttosto che in PvP Poi ovviamente Ancora dobbiamo vedere Poi a livello 110 Che cosa accadrà Anche perché i talenti PvP Sicuramente cambieranno Un bel po' Il modo di giocare Anche perché Li ho un po' Intrevisti E devo ammettere che ci sono Un sacco di cose interessanti Tipo il bloodlust La squadra Ok Cerchiamo di ammazzare Questo tizio Cerchiamo di Dare un freno A questa invasione A meno per il momento Dai All'attacco Dai che ci siamo quasi A questo punto Chiudiamo in bellezza Con un bloodlust Uuuuh Eppure con scissione Poi chiuderemo Dai All'attacco Al massimo Nye 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 Sì Uh Cos'è Ricevuta assorbita Termine provoca L'effetto carbonizzato Non so perché Ho un brutto presentimento Eeeh Ok Non si è successo nulla Comunque Adesso possiamo andare A consegnare quindi Questa quest E poi vedremo Che cosa ci toccherà fare Ovviamente questo episodio Poi si concluderà Qui anche perché qui Abbiamo fatto Una lunga invasione Almeno per me è stata Abbastanza lunga Basta guardare un attimo L'orologio Durata circa una mezz'oretta O qualcosa del genere Quindi Allora Torniamo quindi Dagli lidari Chissà Sono piuttosto curioso Non vedo l'ora Di provare Il demon hunter Per il semplice motivo Anche che voglio Vedere Come mai Sono stati liberati Cioè Da dove Sbugano Soprattutto Come sono usciti Alla loro Casa Ok Eccomi qua Ce l'hai fatta Hai fermato un'invasione Se solo fosse L'ultimo atto Della nostra campagna Ma la legione Non si fermerà Mai Finchè non sarà distrutta O non avrà distrutto noi Non arrenderti Fermo ogni invasione Che trovi Xemian Il chi? Draghi lingua che abbiamo impregionato Ricompenserà i tuoi sforzi Ok Molto bene ragazzi Quindi Questa era per il momento La conclusione Di questo episodio Ovviamente Rimanete sintonizzati Anche perché ci saranno Ancora altre parti da fare Per quanto riguarda La storia Quindi Direi che per il momento È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao